Il pannello Self-Care di firma remota ti consente di gestire in piena autonomia l'utenza personale di firma remota e il dispositivo ad essa associato. In questo video ti mostrerò tutte le funzionalità disponibili. Una volta avvenuto l'accesso al pannello, dal menu laterale di sinistra puoi accedere alla sezione Informazioni profilo, da cui visionare le informazioni fornite in fase di registrazione e attivazione della tua identità digitale. Puoi modificare le informazioni personali associate al tuo account di firma remota, quali password, telefono e indirizzo e-mail e puoi recuperare il tuo codice utente. Dalla sezione Gestione dispositivi puoi verificare la corretta funzionalità del tuo dispositivo di autenticazione. Ti basterà effettuare un test generando ed inserendo un codice OTP nel campo apposito. Se hai cambiato lo smartphone, tablet o dispositivo fisico, come OTP Display o OTP USB, associato alla tua firma remota, o vuoi riconfigurare l'app Aruba OTP, puoi utilizzare questa sezione seguendo le istruzioni indicate. In caso di un non corretto funzionamento del dispositivo, puoi sincronizzare il nuovo compilando i campi con le informazioni richieste. Inoltre, dal menu in alto Consulta le guide, hai l'accesso diretto alle modalità di utilizzo del pannello. Dal pulsante Richiedi assistenza, hai accesso al portale assistenza.aruba.it, da cui ottenere supporto per i servizi acquistati e informazioni commerciali. Infine, dal menu indicato, puoi cambiare la lingua di visualizzazione del tuo pannello self-care.